Nasce dall'obiettivo principale che è sempre stata la mission che guida lo sviluppo dei prodotti in FPT, quello di essere sempre vicino al cliente e soddisfare con inventiva e capacità di innovazione tecnologica i suoi bisogni. La tecnologia Fiction Steel Welding trova un naturale alleato in chi sa come noi e conosce molto bene la meccanica strutturale delle macchine che devono poi erogare la prestazione di Fiction Steel Welding e questo è stato fatto negli scorsi dieci anni, creando una business unit che è appunto la Fiction Steel Welding Unit di FPT. Recentemente si è voluto portare al mondo della mass production una soluzione decisamente più su misura per i bisogni della produzione di massa di veicoli, ma anche velivoli in questo senso. L'elettrificazione dei veicoli che è in corso è sicuramente uno dei driver tecnologici anche di business di questa attività. La nostra proposta a questo punto è in partnership con Fanuc la capacità di proporre un sistema produttivo del quale noi siamo in grado di fornire non solo il macchinario in quanto tale in stand alone, ma anche tutte le fasi di asseverazione del processo di preindustrializzazione fino all'accompagnamento finale del final commissioning dal cliente. Quando sia necessario integrare questa unità, che può essere ripeto voluta stand alone o in combinazione con le altre, all'interno di una linea di manifattura ci avvaliamo dei migliori integratori a livello internazionale.